effettivamente basta che faccia dimissioni poi può dire sapete una cosa i nonni dimissioni ho detto solo i nonni dimissioni dimissioni allora per quanto riguarda il ponte sullo stretto dimissioni 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 e basta dicevo il ponte sullo stretto di Messina dimissioni lo sapevo io a bestia a voi in altri sia per i cento mescati attiva della campanella per ogni aggiornamento posso continuare per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina e il collegamento ferroviario collegamento ferroviario nel sud d'italia dimissioni dimissioni e che ca ti pareva allora ragazzi ha annunciato questo Salvini ma senta ma per quanto riguarda le dimissioni che cosa fanno ed ha arriva subito sciacalli scusate dimissioni scusatemi a parte che io ho fatto quel posto dei nonni prima e comunque l'avrei fatto lo stesso durante perché comunque era la festa dei nonni e mi sento che dovevi fare pure tutti i miei nonni anche perché anche io li ho avuti io quindi ma qua questi chiedono adesso li faccio contenti volete le mie dimissioni do delle dimissioni do le dimissioni no non le do perché sono due anni che continuate a dirmi che mi debba dimettere e poi già l'ho detto dichiara Salvini sempre lui Matteo il buon Matteo dichiara che anche se sarà condannato per l'AMS lui rimarrà comunque ministro questo non potrà mai farlo perché condannato poi bisognerà vedere l'immunità eccetera ma non può ministro condannato fare comunque il lavoro di ministro quindi sarà condannato Matteo Salvini non più il ministro Salvini poi è tutto da vedere ha per curata la grande il centro-sinistra dimissioni ciao